Io no Posso capire se la lampada è già accesa Che allora inizia a fare così Ma non è che siamo su Stranger Things Oh livello start Compa Compa non so se mi spiego eh Devo prendere le monitine Raga raga devo prendere le monitine Ma ha un gatto nero in mano Ma è un gatto È horror Beh in teoria mezzo Raga noi siamo Noi siamo nella nostra Ma cos'è tipo una stanza Sì è la nostra stanza Ah capito Super Puma 16 bit Fico Ero talmente concentrato che non Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto E che riparte da zero Ciao Come stai Ma mi stai Mi stai toccando il mento Mi sta accarezzando Ma gli sembra un cane Sei cretino Sei cretino Ma che sono cose da fare Una casettina piccolina Le guarda a destra Ma quel coso lì Ma è il muro Penso sia riflesso No ma raga Tranquilli Oddio Oh Che figa sta casa Non so nemmeno io Come sono uscito da lì Penso che dove è il quadro Ah ma è un quadro Bro tranquillo E' caduto un libro ragazzi Ma questi salutano Esultando Allora io ogni tanto La sito la controllo Però voi sappiate Che io non mi posso girare Fino a più di così E nemmeno più di così Lì c'è il nostro nettino Quello è un asino Ma cos'è quel coso Ragazzi un asino Messo così Ma ci sono delle patatine Vabbè un po' come la mia stanza Comunque Oh le monete Vero Oh set coins Perché la musica è cambiata Ma la musica non è come due minuti fa La musica è un po' più slowend E vi assicuro che non è per un edit Su tiktok Oppure perché Oppure perché il gioco sa Che in questo momento vanno Ma vi assicuro che è tipo A mezzo Non lo so Sus Stiamo spaccando Sero morto sotto la tv Ma che state dicendo raga Ma siete impazziti Non iniziate a inventarvi cose raga Solo perché mi volete far paura Perché voi avete paura eh Non mi iniziate a fare Posso accendere la luce Cosa c'è accanto alla tv Ragazzi non c'è niente sotto la tv Ragazzi sotto la tv Non c'è niente ok Voglio che la smettete di dire queste cose Grazie Continuiamo il nostro giochino Ah nella casa di prima Ma magari stava dormendo Monetina Oh lì non mi ci fa andare Fuss Qua tutto a posto Appena viene una zanzara Ragazzi Altro che mostro Appena viene una zanzara Dici stanno il gioco eh È l'unica cosa che non voglio Che entri qua dentro Il resto può entrare E come Perdonami A parte che non ha proprio senso come cosa A parte che non ha proprio Però sai cosa c'è di positivo Comunque non può essere una zanzara Perché la zanzara come fa ad aprire la porta compa È impossibile L'unica cosa è Ma non è che io con questo mino Sto entrando proprio in casa mia Perché io ho aperto la porta lì Si è aperta anche qui Quindi fammi riprovare La porta me la dà chiusa Ok sento battere I ragazzi stanno facendo Le loro cose di là in cucina Magari Le focacce Vediamo se qui mi fa Qui mi fa entrare Oh ragazzi è strano eh Proseguiamo Proseguiamo Perché la lampada si è tipo fatto Vum Cioè perché ha fatto vum Perché la musichetta non c'è più nel videogiochino Che era molto carina Perché la luce ha fatto vum No no io voglio sapere solo perché la luce ha fatto vum Adesso non mi interessa niente Vabbè però considerate che c'è mal tempo fuori raga eh Considerate che fuori c'è mal tempo Ma ragazzi Cioè Queste focacce in quanto In quanto tempo si fanno Io non sono mai entrato in una casa No raga 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 Oh Siete che la musichetta la sento se proprio volete saperlo Il problema è che non è per niente Simile a quella di prima Questa terra cos'è la salsa Per le focacce No no Quello ero io Cioè tipo mi ha fatto capire che ero io No 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 è uno scherzo Mi stanno facendo un giochino Che padati però Questa è una candy camera? Dove sono le telecamere? Dov'è la gopro? Sotto il letto? Beh se anche fosse sotto il letto non la controllerò Per caso c'è un'altra qui? Dov'è? Che cos'è? Cioè com'è la situa? Com'è? Cos'è sta musica? Perché si è aumentata? Eh? Perché? Magari la prossima sì No ragazzi Raga 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 Aspè Aspè raga 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 Questo monstro era quello lì che avevo io prima qui accanto eh Quello lì era Aspè 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 un attimo Aspè aspè peak Aspè 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 også Questa è unaстра Aspè 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 as lì E perché mai doveva succedere questa cosa qui? Posso capire se la lampada è già accesa Che allora inizia a fare così Ma non è che siamo su Stranger Things Proviamo a entrare qui Allora voi forse non avete capito Allora quel coso è dentro casa mia Lo vado a fai dare Ma raga 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 sta venendo qua raga 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 il GG È stato bello È stato E non farlo venire Che è che faccio? Rimaniamo qui E guardiamo lo schermo Che cosa ne dici? Puoi prendere un coltello? Compà Batti un colpo se mi senti Compà Batti due colpi se mi vuoi bene Batti ne tre se mi vuoi picchiare E forse non ci siamo capiti Forse non ci siamo proprio capiti Te so Non ci E' finito E' finito Ragazzi falso allarme Ragazzi falso allarme In realtà cercava solamente il cesso E ha sbagliato stanza Bravi Bravi No ci siamo capiti E' finito E' finito E' finito Grazie a tutti.